Ciao, mi chiamo Giovanni Asta, spero tu sia in salute, con te e tutta la tua famiglia. Sono veramente felice di invitarti a questo progetto pensato insieme a Yogare, primo studio di yoga online in Italia e tutto il suo staff. Due percorsi, uno per chi si è da poco avvicinato lo yoga è uno per praticanti un po' più esperti, in quali lavoreremo su vari aspetti della pratica, secondo un po' la mia visione dopo questi oltre 30 anni di pratica. Vorrei darti alcuni consigli pratici per avere la migliore esperienza sulla piattaforma Zoom, perciò sarebbe importante se tu trovassi un luogo tranquillo per la lezione e con una buona luce, in modo tale che io possa vederti al meglio delle possibilità. Magari se avrai a disposizione uno schermo grande, come ad esempio una TV, anche tu potrai vedermi molto chiaramente e tutto sarà più semplice per te. Se sarebbe importante tu avessi a disposizione alcuni props minimo, tipo una cintura, qualche mattoncino, magari uno o due coperte ed eventualmente anche una piccola porzione di muro da utilizzare in alcuni casi per alcuni asana. Comunque quale sia la tua tecnologia o gli spazi che hai a disposizione, cercheremo di fare del nostro meglio e che l'esperienza sia la migliore possibile. Cerca però di essere puntuale all'inizio della lezione. Scrivimi se pensi che ci sia qualche condizione fisica di cui io debba essere messa al corrente, ti posso aiutare magari a evitare qualche pratica piuttosto che parzializzare e quindi a questo punto non mi resta che augurarti una buona giornata e ti aspetto per la prima lezione e sono sicuro che sarà un'esperienza entusiasmante sia per te che per me. Bene, a prestissimo! Ciao!